Le vicende legate alla bufera, ato rifiuti Toscana Sud, sono entrate in Consiglio Comunale ad Arezzo. Al centro delle interrogazioni provenienti dai banchi dell'opposizione, le dimissioni del direttore generale Andrea Corti agli arresti domiciliari e la nomina pro tempo re di Enzo Tacconi. Ci è sembrato poco opportuno nominare come nuovo direttore uno stretto collaboratore del direttore precedente. Crediamo che la politica debattare dei segnali non è un problema di legittimità dell'atto quanto di opportunità. Un segnale di discontinuità secondo noi andava dato e abbiamo sollecitato in questa direzione il sindaco. L'atto non poteva non applicare l'articolo 19 del regolamento dell'atto stesso che prevede che in caso di indisponibilità del direttore generale a svolgere il proprio ruolo, l'atto debba affidare temporaneamente le funzioni del direttore generale a un dipendente. Tra i dipendenti ovviamente occorre ricercare quello che ha caratteristiche professionali più simili a quelle del soggetto che deve andare temporaneamente a sostituire e questo è stato ed è l'ingegnere Tacconi. Un'altra interrogazione dai banchi del Movimento 5 Stelle ha avuto per oggetto la legittimità delle convenzioni tratto rifiuti Toscana Sud e i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Questa mattina ho presentato una mozione in cui si chiediamo l'annullamento della procedura di gara dell'assegnazione del servizio integrato a sé Toscana e inoltre abbiamo anche la ripartizione delle quote di partecipazione perché con questo calcolo qui vengono premiati maggiormente i comuni che posseggono gli impianti ma non vengono premiati invece i comuni che fanno raccolta differenziata. Nel momento in cui questo procedimento penale andando avanti nelle indagini arriverà a un rinvio a giudizio e forse anche a un provvedimento a una condanna non lo so quello che avverrà ma sarebbe dimostrato il fatto che quel contratto il contratto che lega sé Toscana dato Toscana Sud è nato sotto legida di un procedimento illegittimo addirittura illecito e quindi potrebbe essere di punto in bianco dichiarato nulla questo apre uno scenario apocalittico per quello che riguarda la gestione dei rifiuti perché è un servizio che non si può fermare e quindi occorre quello che ho detto occorre da subito ad operarsi per trovare lo schema di atterraggio di una procedura che preveda l'assenza di un contratto che lega sé Toscana a Toscana Sud sempre nell'ipotesi che quanto sostenuto dai giudici sia vero e che ci sia un profilo di illegittimità e illiceità di quanto operato a proviso del contratto.